Nel frattempo è scesa in campo Beatrice Negretti con il suo servizio verso 5 su Martinez in difficoltà Palla a filo rete ma non chiude Diouf e si può continuare a giocare con Annie Dries sul profondo Chiude Barsch da linea per la pipe sempre della numero 14 con la palla a filo rete Tiene Diouf da linea al centro per la capitana Stufi si continua a giocare Martinez la palla si impenna Da linea ancora in 4 per la conclusione di Gennari si allunga lo scambio con Dries in diagonale Chiude il muro chiude la difesa da linea dietro per Diouf sulle mani del muro si tuffa Starcevic si continua ancora a giocare applausi del Palayamamai da linea dietro per Diouf in 6 Chiude la difesa lo bianco Martinez a martellare in diagonale stretto che difesa di Gennari Con Barsch a forzare su Sirressi e ancora si allunga lo scambio meraviglioso fin qui con Dallina In 4 per Gennari Sirressi tiene Giovanovic, Martinez muro di Bustar Sizio con Starcevic ancora a chiamare L'attacco della Dominicana! Mani out della numero 1 Deva rimanere lucida in attacco e aver pazienza Gilardi con la buona ricezione, Kambi con Vanekche salva Dijk ma in tuffo Poi il pallone a disposizione di Tirozzi che lo tocca solamente di là dalla rete Mizetic colpetto anche per lei Firenze va un po' in difficoltà ma alla fine sbroglia Santana Attenzione a Kambi che innesca Bokan dalla seconda linea Tiene Sorokaito in difesa, palla per Tirozzi si impenna Gilardi c'è e allora Kambi Albrecht ancora Sorokaito con la difesa, pallone toccato da Tirozzi Rigiocato da Kambi dopo la deviazione di Albrecht L'attacco di Mizetic non va a terra Scambio interminabile, ci prova Sorokaito e a chiuderlo Di Zavane che c'è, allora prova ancora Bokan dalla seconda linea Attacco nuovamente sul bagger di Sorokaito e Santana prova a chiudere C'è il muro di Pesaro che prende il punto e può finalmente tirare il fiato 5-3 E Mastrugnac adesso Adenizia, Carlini in 4 per Lucia Bosetti Il muro tiene il pallonetto di Bosetti All'indietro per Hock, ancora il muro di Foppa a sporcare E allora Silla, l'attacco, ancora un muro Malinov a costa, sporcato Papa Carlini all'indietro per la fasta di Adenizia Ci arriva Malagurski, Malinov di là Merlo in recupero E allora Bosetti, sporca ancora il muro Scambio infinito nuovamente Malinov a costa, il muro, la palla ancora di qua Ancora Malinov e adesso Silla Pallonetto spinto, Merlo Carlini all'indietro per la fasta di Adenizia Ma tocca Popovic E ancora la rigiocata per Scandicci Un missile di Bosetti Che però termina out Spettacolo al Pala Nord